Allora, siamo con Federico Belfiori, capitano della Presidente Pallanuoto Bologna, quest'anno in Serie B. Capitano nostro, allora intanto bello vederti, anche se così, ma volevo intanto sapere come stai e so che hai fatto il vaccino perché lavori in una struttura ospedaliera. Vuoi raccontarci un po'? Sì, allora, innanzitutto tutto bene, grazie. Ho cominciato a lavorare già da un po', sto abituandomi piano piano. È stato un inizio un po' più difficile tra lavoro, allenamento tutto, ma adesso stiamo prendendo un po' la quadra della situazione, piano piano, si prendiamo il ritmo. Per quanto riguarda il vaccino, sì, l'ho fatto. Essendo un operatore sanitario, per fortuna abbiamo avuto questa... Ricordiamo, ma qual è il tuo lavoro? Sono un tecnico radiologo. Ok, perfetto. L'altro giorno ho fatto il vaccino. Come stai? Beh, tutto a posto. Tutto quello che penso si dica intorno riguardo a questo spauracchio del vaccino. Cosa ne è? Beh, io penso che sia il primo passo verso quello che potrebbe essere effettivamente il miglioramento della situazione attuale che stiamo vivendo. Sicuramente ci sarà ancora molta strada da fare, ma il vaccino è sicuramente il primo passo da fare per cercare di raggiungere o tornare a vivere ad una certa normalità, ecco, sia per noi, per i nostri affetti, per i nostri cari, ma anche e soprattutto per le persone che magari ci hanno già lasciato. che quel loro sacrificio non sia stato invagno, ecco, tra virgolette, vogliamo dire una cosa del genere. Quindi ora sei vaccinato e torni in piscina ancora più tranquillo? Sì, sì, quello sicuramente. Come vanno gli allenamenti? Gli allenamenti van bene, van bene, nel senso che la squadra... Quest'anno hanno cambiato tutto, quindi ci siamo autoretrocessi per motivazioni legate a economiche dovute allo stop imposto per il Covid. Siete rimasti pilastri, quindi è un po' diverso, sempre allo stadio, sempre tutto, però ovviamente bisogna mantenere quello che dobbiamo, che siamo noi. Quindi Serie B, com'è il clima? Il clima della squadra comunque è ottimo, nel senso i ragazzi si allenano sempre tutti al massimo, con un grande impegno, costanza. Chiaramente ognuno di noi ha voglia di tornare a giocare, sicuramente il fatto che ancora non ci sia una data di inizio del campionato... Si parla di? Si parla del 20 febbraio, ma è ancora niente di ufficiale. Insomma, la squadra c'è, carica, abbiamo mantenuto, come hai detto tu, alcuni elementi degli anni scorsi, ma in realtà gran parte del bivaglio, insomma, sarà costituito... Io ho sempre chiamato i senatori. Dai, dai nostri giovani e anche questa... Mi ha ricordato che sono, a parte te, ormai figura... Ah, siamo io, Francesco Marciano, di Daniele Parisi, Marco Moscardino, Cristiano Campolongo, e si sono aggiunti, Bruno Kadar, il nostro ungherese, si sono aggiunti poi anche un paio di ragazzi, Edoardo Schettino e Damiano Pellegrino, che è un mancino di grandi qualità, entrambi ragazzi molto bravi, serie, ragazzi d'oro, insomma, anche loro. Dai sei... che numero di stagione è questa che sei sotto? Questa è la mia undicesima. Quindi, ora c'è Covid, quindi sta cambiando tutto, stiamo cambiando noi, stiamo cambiando le nostre abitudini. Te, che per dieci anni hai vissuto l'inizio della stagione, dalla preparazione atletica alla comunicazione a parte della federazione, dall'inizio del campionato, quindi anche tutto il verbo, tutta la carica, tutta l'endorfine, per usare le parole del nostro mister. Com'è quest'anno? Beh, quest'anno, come dicevo prima, c'è una gran voglia, ma c'è sempre, diciamo, quella parentesi amara di questo virus che, diciamo, non ci fa vivere appieno, magari di momento insieme alla squadra, ritiri, anche solo andare a mangiare una pizza fuori, con il gruppo, dopo scena, dopo allenamento, la sera una birretta, ecco. Abbiamo cambiato le nostre abitudini, ecco, però per quanto possibile cerchiamo sempre di mantenere i legami affettivi, soprattutto tra amici, però ecco, la volontà è quella di tornare a giocare prima possibile. Speriamo che, in questo senso, la volontà si muovano il più presto possibile, ecco. Senti, il Covid ora ci sta, è ormai un componente quotidiano della nostra vita, tant'è che, per colpa del Covid, noi come società abbiamo dovuto, abbiamo scelto di retrocedere, e, nonostante anche oggi, in altri sport, come il calcio e allenamenti sospesi, di qua, o comunque problematiche, atleta positivo, atleta non, oppure negativo, asintomatico, positivo, asintomatico, che difficoltà ci sono? So che, in passato, c'è stato, c'è stato uno o due persone, anche fra di noi e nel nostro gruppo della Prima Squadra, positivi, come l'hai vissuta e come è stata vissuta nella realtà della Prima Squadra e anche delle giovanili, perché comunque tu sei anche un punto fermo e io sono orgoglioso di fare questa prima intervista con te, perché anche per i ragazzini, per i piccolini, Federico Belfiore è il capitano, è il nostro fedone, quindi, com'è stata vissuta? Appena si è avuto la notizia? Allora, questo, diciamo, è un altro punto critico della situazione, sì, brutto, perché nel senso... Anche il calcio ci fermava agli allenamenti, cambiavamo... È una situazione strana, cioè strana, è difficile e dannosa, in quanto anche in passato abbiamo avuto dei periodi di stop, perché, come dicevete, alcuni ragazzi erano risultati positivi e in questo, in un frangente del genere, cioè l'unica cosa che abbiamo fatto, l'unica che ci restava da fare, era, ovviamente, attuarsi, diciamo, a tenersi ai protocolli che, diciamo, la società e, in generale, la situazione richiedevano, quindi siamo dovuti rimanere a casa, abbiamo dovuto fare il tampone, è pesante... A fare un esito, con anche tempi... A fare un esito, con vari tempi, quindi... Certo, certo, prima di tornare in pesce, insomma, tampone, esito negativo, e poi, quando tutti erano pronti, siamo tornati, siamo tornati, però, ecco... dal punto di vista nostro, bruttino, nel senso che abbiamo perso anche una certa continuità nell'allenamento, e la condizione fisica è difficile da mantenere, da raggiungere, però, purtroppo, la situazione è questa e bisogna, in un certo senso, adattarsi, ecco... Come noi, anche tutte le altre società e squadre, sicuramente, avranno i loro problemi, e... Così, comunque... Sì, ultima domanda, poi ti lascio. È la tua seconda stagione da capitano. Sì. Perché l'anno scorso è stata la prima, dopo la pesa della calotta al chiodo, da parte del nostro storico capitandello, che salutiamo. Io, l'anno scorso, ho visto proprio un'evoluzione, sia a te come giocatore, sia a te come persona all'interno della squadra, che già ce l'hai nel tuo carisma, essere comunque un leader. Però essere capitano comporta, comunque, degli impegni, delle responsabilità in più. Quest'anno, col Covid, senti che la fascia capitano è più pesante, o è pesante in maniera diversa, oppure c'è più un lavoro sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto tecnico-pratico in acqua? Com'è? Beh, oddio, la situazione capitano, ecco, dal punto di vista Covid e non Covid, non è che cambi effettivamente chissà quanto. Però no, quest'anno è sicuramente un po' più difficile, nel senso che, come dicevo prima, avendo una squadra composta anche da molti giovani, è importante comunque essere una buona guida. Per fortuna ho dei compagni di squadra più grandi di me, anziani, con esperienze che mi danno una mano. Però, insomma, è sempre abbastanza, è sempre molto gratificante. Anche il fatto di dover far crescere dei ragazzi più giovani che si, diciamo, approcciano per le prime volte a dei campionati un po' più, di livello un po' più alto, così per dire, è sicuramente fonte di grande soddisfazione. come, essendo una cosa nuova, richiede anche molto impegno. Quindi, sì, non si smette mai di imparare. Sia di testa che di fisico, ecco. Bene, grande Fedone. Ti rifaccio i miei complimenti perché sei una bella figura di riferimento per la pallanuoto bolognese, per la president. Io ti faccio tanti auguri perché te li meriti e poi aspettiamo con ansia quando sarà l'inizio del campionato. Grazie per questa intervista, anche se prima eravamo attivati a farle in vasca e tutto, ma purtroppo bisogna farlo così. Ti ringrazio tanto e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Ci vediamo presto. Un saluto a tutti. Grazie Fede. Ciao a tutti. E forza President. Ciao.